Vestirsi tutti di bianco, portare avanti la sua musica, far sentire la sua musica sia all'interno della chiesa che all'infuori della chiesa. Musica, palloncini e abiti bianchi, così Benedetta Odi, la fidanzata di Sebastiano Marson, detto Shaba, vuole ricordarlo e celebrarlo il giorno del suo funerale, facendo ascoltare a chi andrà a dargli l'ultimo saluto le canzoni del giovane 22enne di Sant'Andrea di Barbarana, scomparso tragicamente nell'incidente dello scorso giovedì notte. Faremo volare questi palloncini come bianchi e colorati, come giustamente il volo che effettivamente ha preso lui e anche il simbolo, cioè anche il colore bianco per lui significava libertà, significava come se fosse una nuvola, uno zucchero filato che appena lo tocchi poi anche si dispa un pochino. Determinato, coraggioso, amante dell'avventura e un grande creativo, Sebastiano aveva un mondo dentro di sé da condividere con chi amava la sua musica, un vero e proprio pilastro per chi lo conosceva. Mi ha insegnato ad essere forte, a non abbattermi mai, a credere in me stessa. Giovedì scorso, Sebastiano era andato a trovare Benedetta Iesolo, dove lavora come cameriera per la stagione estiva. Aveva deciso però di rientrare a casa sua quella notte e fermarsi a Iesolo solo per cena. È partito con amore e ci vediamo domani. Non c'è stato. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti per accertare chi fra Sebastiano e il 24enne senegalese alla guida del furgone abbia invaso la corsia provocando lo schianto. Si stanno completando gli accertamenti tossicologici su entrambi e non è escluso venga disposta una perizia sulle vetture. Porterò avanti quello che effettivamente è lui, è un artista, perciò gli artisti non bisogna dimenticarli. Grazie a tutti.